Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video che non è un video haul, ma che non è neanche un video recensione. Voglio farvi vedere che cosa sto collezionando. Ecco, magari potrebbe far parte dei video sulle mie collezioni. Voglio farvi vedere cosa sto collezionando. E sto parlando dei prodotti che vengono diciamo regalati, ma in realtà non regala niente a nessuno. È una raccolta punti di Coop, Alleanza 3.0, si chiama appunto un milione di e ci sono vari premi. Allora, a parte il premio dell'estrazione, che quelli sinceramente non mi interessano minimamente. La raccolta funziona in questa maniera. Ogni volta che si va a fare la spesa, con una spesa minima di 20€, una cartolina, questa qui, dove c'è una zona argentata che va grattata e si vede se si è appunto vinto subito oppure bisogna partecipare al concorso finale. È quello che a me non interessa. Qui c'è un bollino che va applicato su questa cartolina, su questa scheda. Ecco qua, si applicano qui i bollini. Quindi ogni 20€ di spesa una cartolina, un bollino, che si applica su questa scheda dove se ne raccolgono 5. Ogni 5 bollini si può scegliere un coltello della collezione Egan. Egan, una collezione davvero esclusiva. Dall'11 gennaio al 12 marzo, ogni 20€ di spesa riceverai una cartolina contenente un bollino per partecipare alla collezione Egan e ricevere uno dei coloratissimi coltelli. I coltelli sono questi qua. Sono bellissimi. Hanno il manico ergonomico, sono velluttati al tatto. Belli, belli, belli. Ho raccolto già altri 5 bollini, quindi già se vi sto facendo il video dire che già i coltelli ce li ho e anche il ceppo, però ovviamente non li ho finiti e sto continuando la collezione perché c'è tempo appunto fino al 12 marzo, quindi ci abbiamo ancora un altro mesetto. Scopri da collezione Egan, 6 pratici coltelli con lama in acciaio antiaderente e manico soft touch decorato per ogni utilizzo in cucina. I coltelli sono questi 6. Io ho già collezionato quello per il pane, quello per la cucina, bistecca e multiuso. Già ce li siamo sequestrati, già ce li siamo messi in conto. E allora partiamo da coltello da bistecca. Lo apro così, lo vediamo tutti quanti dal vivo. Sono taglienti, quindi facciamo attenzione. Eccolo qua. Il campo di cuore c'è scritto qui sul manico ed è appunto seghettato, la lama è seghettata. E all'interno di ogni confezione poi ci sarà questo piccolo deppliant dove ci sono all'interno tutti i coltelli con i suoi nomi. E dietro c'è scritto, ci sono le avvertenze per la pulizia. Pulire il prodotto prima di ogni utilizzo, ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo e gettarlo ai primi segni di rottura o danneggiamenti. Attenzione. Aprire e maneggiare con cura. Tenere lontano dalla porta dei bambini, la lama è estremamente affilata. Lavaggio a mano. Per non rovinare i coltelli è preferibile il lavaggio a mano. Lavare con acqua calda e sapone e risciacquare. Asciugare subito. Per sicurezza ogni coltello andrebbe lavato separatamente. Vabbè, ma questo è il minimo, diciamo. E di questi ne ho già 4. Ho 3 o 4 di questi. Ho un coltello multiuso. È uguale a quello per bistecca, però questo è con la lama liscia. Eccolo qui. Mi piace di più sinceramente questo colore che quello. Ma io non amo il blu. E questo oramai è risaputo. Vediamo i pezzi forti. Il coltello per il pane. È bellissimo. È giallo. Fanno un po' paura. Sono un po' grandi. E infine l'ultimo della serie è questo qui da cucina. Il coltellaccio con la lama da 20 cm. Che ha il manico rosso. Quindi mi mancano praticamente soltanto il coltello spelucchino e il coltello per l'arrosto. E in pratica avrei finito la collezione se ne avessi voluti uno per. Però come vi dicevo ho preso altri coltelli da bistecca. Perché comunque se uno è a tavola e deve apparecchiare la tavola, minimo ce ne vogliono 6. Quindi continuerò. Infatti questa è già pronta per il prossimo coltello da bistecca. Ora magari diciamo li conto e vediamo quanti sono. E devo prendere ancora questi ultimi due. Per ricevere ogni singolo coltello, quindi dopo aver completato la scheda con i 5 bollini, bisogna dare come contributo per l'acquisto una differenza di costo. Per il coltello spelucchino, di cui la lunghezza della lama è di 9 cm, ideale per il taglio dei piccoli ortaggi, ci vogliono 5 bollini e 1,90 euro. Per il coltello per bistecca, la cui lama è di 13 cm, perfetto in tavola per tagliare la carne, ci vogliono 1,90 euro. Per il coltello multiuso, la cui lama è di 12,5 cm, ideale per tagliare con facilità frutta e verdura, ci vogliono 1,90 euro. Il coltello per il pane, lama a 20 cm, adatto sia per il pane fresco che croccante, 2,90 euro. Per l'arrosto, lama da 20 cm, adatto per tagliare tutti i tipi di carne, 2,90 euro. E infine per il coltello da cucina, sempre lama da 20 cm, adatto per affettare, tritare, tagliare e sminuzzare, ci vogliono 3,90 euro. Ma la collezione non finisce qui, perché? Per conservare o comunque per riporre questi coltelli, hanno creato un ceppo. E hanno creato anche un tagliere. A me sinceramente questo tagliere non piace, per niente. Taglieri di legno li preferisco in assoluto, secondo me sono anche belli esteticamente. A mio avviso il tagliere deve essere di legno. Per me non esistono altri tipi di tagliere, il tagliere deve essere di legno. Quindi diciamo che questo tagliere a me non piace. Ma il ceppo sì, e mi piace pure parecchio, perché mi piace l'idea del ceppo con i coltelli all'interno. Mi piace quello di legno, famoso, i shogun. Quindi ho pensato bene di prendere come prima cosa il ceppo, perché comunque secondo me sarebbe stata la prima cosa a sparire nel supermercato. E infatti così è stato. Ieri non ce n'erano praticamente più nell'ipercop di Santa Caterina, qui di Bari. Come ti ritirai il tuo coltello Igan? Raccogli 5 bollini, bara la casella del premio scelto, presentati entro il 2 aprile 2017 per una delle casse assistite con la tessera completata di tutti i bollini e verso il contributo richiesto. Infatti qui c'è come fare. Complita la collezione con il ceppo e il tagliere Igan. Il ceppo ha un valore di 34,90 euro. Per i clienti, diciamo, senza la tessera costerebbe 12,90 euro. Per i clienti invece, Coop, il prezzo è di soli 9,90 euro. Che non è pochissimo, però per un ceppo, per come è fatto, sinceramente non è male. Se siete interessati al tagliere, il tagliere costa 14,90 euro. Per i clienti 6,90 euro, mentre per i soci Coop 4,90 euro. Ora vi faccio vedere com'è il ceppo. E' pesante perché contiene i famosi spaghetti. Allora, questo è il ceppo. E' bianco, con tutti questi cuori rossi. Secondo me sta bene in qualsiasi tipo di cucina, con qualsiasi tipo di arredamento. E me lo immagino già con tutti i coltelli infilzati. Cosa sono gli spaghetti? Gli spaghetti sono, vedete, all'interno è forato, in modo che se ci mettiamo qualcosa di umido, può colare. Gli spaghetti non sono altro che questi. Che, visti così, se ne vanno un po' per i fatti d'oro. Metti all'interno del contenitore, sono belli serrati. E infatti i coltelli si infilzano veramente bene. E ci stanno anche bene dentro, perché sono colorati. A me è piaciuto. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia stato utile. Il video termina qui. Ci vediamo alla prossima. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social. Sono iscritta ai canali che vedete qui in sovraimpressione, quindi seguitemi. Continuate a seguirmi anche qui su YouTube. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!